Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle ultime notizie dal Veneto. Continua la risalita dei casi Covid sull'intera regione. Siamo oltre i mille contagi in 24 ore. Nella sola giornata dopo il bollettino di ieri sono stati 1077 i positivi ai tamponi. Si registrano anche 5 vittime. Sono i dati riportati nel bollettino della regione Veneto. Dati che ovviamente stanno creando una certa allerta e che fanno temere scenari preoccupanti per le prossime settimane. Lutto a Venezia per la morte nella notte di Silvana Tosi, assessore alla sicurezza della Comune. Lo ha comunicato il sindaco Luigi Brugnaro che ha diffuso la notizia. Silvana Tosi aveva 70 anni ed era molto amata dalla città e dalle figure istituzionali del territorio. Tantissimi i messaggi che si stanno susseguendo in queste ore. Truffe alle persone più fragili e agli anziani. I malintenzionati purtroppo sono sempre in azione. Nel pomeriggio di ieri a Padova sulle linee di emergenza della Questura sono arrivate quattro telefonate da parte di persone anziane che ricevuta una chiamata da sconosciuti che si fingevano parenti o avvocati in cerca di soldi necessari a risarcire danni a seguito di incidenti falsi. Hanno intuito il possibile raggiro e allertato la polizia. Solo in una circostanza una donna è stata truffata da un uomo fintosi suo figlio al telefono. La donna, residente in città, avrebbe consegnato gioielli per un valore di circa 300 euro. La Questura di Padova è molto attenta a questo e oltre a tenere incontri pubblici dirama anche dei consigli importanti. Sentiamoli nel servizio. La Questura di Padova pone da sempre particolare attenzione alla prevenzione di quei reati che coinvolgono le cosiddette fasce deboli. Nelle scorse settimane sono stati organizzati alcuni incontri in diverse zone del comune di Padova aventi come tema quello della prevenzione delle truffe agli anziani. I poliziotti di quartiere hanno spiegato modalità tipiche di azione dei truffatori e dato consigli per riuscire ad evitarli. La Questura di Padova raccomanda a tutti di non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un uniforme. Farsi possibilmente accompagnare quando si fanno operazioni di prelievo, versamento in banca o in un ufficio postale. Non fermarsi con sconosciuti e non farsi distrarre durante il tragitto di andate e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale con i soldi in tasca. La Polizia di Stato è sempre presente e quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa è bene telefonare al 113. Se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto è importante denunciare l'accaduto perché così si dà la possibilità alle forze dell'ordine di svolgere indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro. È fondamentale quindi rivolgersi sempre con fiducia alle forze di polizia anche solo per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo. Continuiamo parlando di un grave incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di oggi verso le 15 lungo l'autostrada A4 all'altezza dello svincolo di San Donà con direzione Trieste. una persona ha perso la vita. Si è trattato di un tamponamento tra un furgoncino e un auto articolato che lo precedeva a perdere la vita il conducente del mezzo più leggero. Studentesse di un liceo veneziano in primo piano dopo che una di loro è stata invitata a non presentarsi in toppa all'ora di educazione fisica. Sentiamo perché. Vietato o comunque sconsigliato l'utilizzo del top alle studenti di un liceo accade in un istituto scolastico di Venezia dove l'insegnante di educazione fisica sostenendo che le forme costituiscono una distrazione per i maschi ha invitato le ragazze a non attirare l'attenzione. Ferma la risposta di alcune studentesse che sono invece andate a lezione ancora con il top e si sono fotografate con uno striscione sul quale vi era la scritta cambiate mentalità, non i vestiti. Foto che ovviamente sono state postate sui social. A Padova continua la presenza congiunta delle forze dell'ordine nelle principali piazze e nel centro storico maggiormente interessato dal Movida. L'area del portello in particolare affollatissima nella serata di ieri, il mercoledì universitario è stata presidiata al fine di consentire il regolare svolgimento nel rispetto delle prescrizioni in corso da parte dei locali e degli utenti. Grazie alla preziosa collaborazione degli street tutor è stato individuato un cittadino straniero che intorno a mezzanotte avrebbe aggredito uno studente italiano. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato dallo straniero in cerca di una sigaretta e al rifiuto dello studente gli avrebbe dato un pugno in pieno volto. 4 le persone identificate che hanno tenuto comportamenti quale consumare alcolici in bottiglia al di fuori dei plateatici e forti schiamazzi segnalati dai residenti sanzionabili in base al regolamento comunale vigente. Restiamo ancora a Padova, parliamo del parco comunale inclusivo e sensoriale albero del tesoro. I lavori si stanno dirigendo verso la conclusione di questa struttura innovativa e molto attesa di quest'area. Vediamo. A Padova 460 mila euro per il parco comunale inclusivo e sensoriale albero del tesoro. Finalmente si concludono i lavori dopo un investimento di oltre un milione. Finora sono stati investiti 675 mila euro dal comune di Padova con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La Giunta questa settimana ha approvato i 460 mila euro necessari per l'ultimo stralcio e completare così il primo parco comunale inclusivo e sensoriale della città di Padova. Nell'area compresa tra il lungargine del Bacchiglione, Via Isonzo, Via Siena e Via Lucca, nel parco di Via Siena, con la collaborazione di molte realtà del territorio, in particolare di Fondazione Robert Holman, che si occupa della cura e della riabilitazione di bambini con deficit visivi e a sede proprio in Via Siena. Sorgerà quindi il primo parco di tutti e per tutti. Con questo ultimo stanziamento si procederà alla costruzione di un fabbricato che fungerà da punto di aggregazione e ristoro per cittadini, alla realizzazione di orti a terra, arredo urbano, percorsi tattili, segnaletica inclusiva verticale, una fontana all'ingresso e un ruscello, nonché verranno ultimati l'impianto di illuminazione del parco e l'impianto fotovoltaico. Parliamo di salute. Una delle armi più efficaci per sconfiggere il cancro resta la prevenzione. Dopo il mese di ottobre dedicato alle donne, la Lega Italiana Lotta e Tumori, l'ILT di Padova, continua il suo impegno a novembre con la campagna di sensibilizzazione, questa volta rivolta agli uomini. Grazie alla collaborazione della provincia di Padova e al patrocinio della Camera di Commercio, CIA, Confcommercio, Università di Padova, prendono il via una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di promuovere l'importanza delle visite urologiche per la prevenzione dei tumori maschili. Per evidenziare l'importanza della prevenzione, il cortile antico di Palazzo del Bò sarà illuminato con luci azzurre nella serata di domani. Il programma è stato presentato oggi dal vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, dal presidente della LILT di Padova, Dino Tabacchi, e dal medico LILT di Padova e primario di urologia dell'ospedale di schiavonia Antonino Calabro. Polizia di Stato e azienda San Benedetto insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che oggi sono sempre più diffusi. Siglato presso la Questura di Venezia un importante protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e San Benedetto per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno ad oggetto i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. Un'azione che rientra nell'ambito delle direttive impartite dal Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali per il sistema economico e sociale del Paese. La Polizia Postale delle Comunicazioni è quotidianamente impegnata a garantire l'integrità e la funzionalità delle reti informatiche delle strutture di livello strategico per il Paese sia attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma sia attraverso i compartimenti Polizia Postale a livello regionale. Questo protocollo, che negli ultimi anni è stato sottoscritto anche da altre aziende private in Italia e da pubbliche amministrazioni locali consentirà di creare una vera e propria rete. Adesso uno sguardo alle condizioni climatiche previste in Veneto nella giornata di domani. Il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso. Nelle ore più fredde è probabile qualche riduzione della visibilità in pianura e nei fondovalle prealpini. precipitazioni generalmente assenti, temperature contenute, variazioni di carattere locale tra cui probabilmente prevarranno le diminuzioni. È tutto per questa edizione regionale dal Veneto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a rimanere su Telecittà e vi auguro una buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti